Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram e sono attiva anche su Facebook. Vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Nel corso dei miei approfondimenti sui casi di true crime mi sono imbattuta in tantissimi individui oscuri e disturbati che hanno lasciato un'impronta sinistra nel tessuto sociale a causa delle loro azioni violente. E oggi sono qui per parlarvi di un caso che sto rimandando da molto tempo, proprio perché l'impatto, già soltanto nella fase di studio e ricerca, è davvero forte. Elliot Rodger è il protagonista di questa storia. A volte ci si riferisce a lui come il re degli incel, perché trascorre molto tempo nella comunità degli incel online. Ma innanzitutto, chi sono gli incel? Un incel è un membro di una sottocultura online, costituita da individui che nella supposizione di esercitare il loro naturale diritto di avere rapporti intimi, motivano la loro inaccessibilità a un partner con il fatto di non essere attraenti, secondo alcuni criteri a loro dire oggettivi e dipendenti dalla loro volontà. In pratica, sono uomini che si sentono emarginati dalla società e dalle donne che non li ritengono alla loro altezza. Il motivo, secondo loro, è che non sono né ricchi né belli e non hanno nemmeno successo. Elliot Rodger, figlio di un regista e di un'infermiera, è cresciuto a Los Angeles senza riuscire a ottenere neanche un bacio dalle ragazze a cui ambiva. Così, a 23 anni, i suoi pensieri oscuri contro la società, e in particolare contro le donne, si intensificano come dimostrano le idee che diffonde pubblicando dei video su YouTube. Ancora di più, ispirandosi alle vicissitudini della propria vita, Elliot decide di ideare e sottoscrivere un inquietante manifesto di 130 pagine che prevede l'attuazione di un terribile massacro. Se ve lo state chiedendo, sì, l'ho letto. Tutto. Elliot, in questo manifesto, ripercorre la sua esistenza, è quasi un'autobiografia in cui spiega quanto sia ingiusta la sua vita. Ma andiamo con ordine. Elliot Rodger nasce il 24 luglio del 1991 a Londra da suo padre Peter Rodger e sua madre Lee Chin. Come accennato, Peter lavora nell'industria cinematografica come regista, ha girato molti spot televisivi. In seguito diventa anche assistente alla regia del film The Hunger Games. La mamma di Elliot, Chin, nasce in Malesia e si trasferisce a Londra quando è molto giovane. Chin è un'infermiera e trova lavoro anche sui sette cinematografici. Così incontra e poi sposa il padre di Elliot. Prima di conoscere Peter, infatti, è diventata amica di alcuni registi famosi come George Lucas e Steven Spielberg. Quando Elliot nasce, la coppia vive ancora a Londra, ma decide di trasferirsi in campagna, di comprare una bellissima casa nel Sussex, in modo che il figlio possa crescere in un ambiente circondato dalla natura. La famiglia Rodger è benestante e la ricchezza è un tema ricorrente in questo caso, dato che Elliot, fin da bambino, ma soprattutto quando cresce, ne diventa ossessionato. Gli piace vantarsi di quanto sono ricchi i suoi genitori e giudica con sprezzo gli altri, di convinto che siano inferiori a lui. Viene iscritto a una scuola materna privata di lusso e per i primi cinque anni Elliot è un bambino felice. La sua vita è perfetta, come scriverà anche nel manifesto. Corre nei boschi che circondano la loro casa, durante gli inverni costruisce dei pupazzi di neve con suo padre, molti membri della sua famiglia gli vivono accanto e ha un sacco di cugini con cui gioca sempre. Va spesso in vacanza in tutta Europa, fin da piccolino, quindi Elliot vive una vita da privilegiato. Quando compie cinque anni nasce la sua sorellina di nome Georgia e suo padre, per motivi di lavoro, decide che la famiglia dovrà trasferirsi negli Stati Uniti. Essendo un regista, prevede che a Los Angeles ci saranno migliori opportunità per lui. Dunque i Roger comprano una casa nella città californiana e vi si trasferiscono. La loro nuova casa è altrettanto bella, ha una grande piscina e dal balcone possono godere di viste mozzafiato. Elliot è entusiasta di vivere qui, dunque i suoi problemi non hanno origine da questo trasloco dall'Inghilterra agli Stati Uniti. Anche nella nuova scuola il bambino conosce un sacco di coetanei con cui stringe amicizia. Viene invitato a tutte le feste di compleanno dei compagni di classe e socializza inoltre con tutti i bambini del quartiere. Anche i suoi genitori hanno una vita sociale molto attiva ed Elliot familiarizza pure con i figli degli amici di Peter e Chin. Conosce anche un'amichetta di nome Maddie Humphries. Un evento importante perché nel suo manifesto Elliot scriverà che Maddie è stata la prima e l'unica amica che abbia mai avuto. Lui infatti stringeva amicizia soltanto con i maschi. In ogni caso in questo periodo tutto procede bene per Elliot e anche per la carriera di suo padre che a questo punto sta lavorando per alcune compagnie televisive piuttosto grandi. Questo lavoro però lo porta a non passare molto tempo a casa e a viaggiare tanto. La cosa non turba per niente Elliot che è orgoglioso di suo padre dato che così guadagna ancora più soldi ma porta attenzione nel matrimonio di Peter e Chin. I due iniziano a litigare parecchio aspetto che causa in Elliot molta ansia. Un giorno Elliot si avvicina a sua madre e le chiede se lei e suo padre si stiano separando. Chin però gli risponde oh no non essere sciocco non c'è niente che non va non ci separeremo mai ma nonostante le rassicurazioni la situazione sta peggiorando. Infatti quando Elliot ha sette anni i suoi genitori divorziano. Sono passati solo un paio di mesi da quando Elliot ha parlato con sua mamma quindi questo lo sconcerta. Si sente tradito da lei crede che gli abbia mentito e la fiducia che nutriva nei suoi confronti va in frantumi. I suoi genitori quindi si separano. Chin si trasferisce in un'abitazione più piccola mentre Peter rimane nella casa di famiglia. Elliot si alterna si sposta dalla casa di un genitore a quella dell'altro e solo un paio di mesi dopo suo padre gli presenta la sua nuova ragazza. La reazione di Elliot ad appena sette anni è alquanto strana. Infatti scriverà nel suo manifesto. Dato che mio padre ha trovato una nuova ragazza la mia piccola mente aveva l'impressione che lui fosse un uomo che le donne trovano attraente. Inconsciamente lo tenevo in grande considerazione proprio per questo motivo. Ma nonostante questa stima per il genitore al bambino la nuova compagna di suo padre non piace e due non instaureranno un buon rapporto. Molti degli scontri tra loro sono dovuti al fatto che Elliot poiché lei non è la sua mamma biologica non le concede il diritto di imporgli delle regole che tra l'altro sono pure particolarmente rigide. Ma il grado i cambiamenti nella vita familiare ai primi anni di scuola Elliot li affronta bene e vive un'infanzia normale. Colleziona le carte dei pokemon gioca con il nintendo ha molti amici anche se non li reputa abbastanza cool alla moda figli e quindi questo è un bel problema. Elliot con loro non investe troppo tempo perché aspira a diventare amico di altri ragazzini i più popolari della scuola quindi li osserva e cerca di emularne il comportamento. Dunque quando loro smettono di giocare a pokemon anche Elliot lo fa sebbene amasse follemente quel gioco. Quando i ragazzini tanto ammirati da Elliot iniziano ad andare sullo skateboard anche Elliot fa lo stesso. Eppure non ama particolarmente lo skateboard non è neanche così bravo ma si impone di provarci per entrare automaticamente nella rosa dei ragazzi fighi cool alla moda. Si tinge pure i capelli di biondo perché il leader del gruppo popolare che Elliot ammira ha la capigliatura di questo colore. Chiede ai suoi genitori dei nuovi vestiti perché pensa che quelli che indossa non siano abbastanza fashion. In pratica Elliot fa qualsiasi cosa in suo potere per cercare di assomigliare ai tipetti più alla moda. Ma in fondo lui è soltanto un ragazzino molto timido che vittima di questo meccanismo di emulazione degli altri non riconosce e non è più se stesso. Elliot come immaginerete ben presto diventa proprio ossessionato dal concetto dei ragazzi cool e cercherà di rientrare in questi schemi per il resto della sua vita. Arriverà addirittura a incolpare i suoi genitori per non avergli insegnato a diventare un ragazzo alla moda. Questo è un altro tema ricorrente nel caso di oggi. Elliot cerca sempre di incolpare gli altri per i suoi insuccessi. Inoltre Elliot tra le medie e le superiori cambia scuola più di dieci volte. Talvolta succede perché i suoi genitori si trasferiscono ma più spesso il desiderio parte da lui perché non riesce più ad adattarsi. Non riesce mai a trovare una scuola adatta a lui perché ogni volta che cerca di entrare nel gruppo dei ragazzi più popolari fallisce sempre. Ciò lo porta a una vita scolastica molto instabile e gli rende faticoso custodire ogni amicizia che prova a coltivare sebbene non riesca a instaurarla con i suoi soggetti preferiti. Due cose a mio avviso hanno avuto un impatto significativo nella vita di Elliot. Il divorzio dei suoi genitori e questo cambiare scuola continuamente. Elliot quando inizia la quarta elementare acquista più consapevolezza del proprio aspetto e si rende conto di essere il più basso della classe. Il ragazzo odia questa condizione si vede piccolo e debole. Comincia addirittura a giocare a basket perché qualcuno chiaramente per prendersi gioco di lui gli ha assicurato che con questo sport sarebbe cresciuto in altezza. Quindi Elliot gioca a basket tutti i giorni ossessivamente per molto tempo ma non nota differenze. Da questo momento in poi Elliot inizia la sua battaglia con la propria insicurezza riguardo all'aspetto. All'età di 11 anni si iscrive alla scuola media di Pinecrest un istituto privato in cui gli alunni devono indossare un uniforme. Per Elliot da questo momento in poi l'esperienza scolastica non fa che peggiorare. Fa fatica a inserirsi nel gruppo dei ragazzi alla moda e quando prova a interagire con loro lo prendono in giro. Ben presto questi sfottò si trasformano in bullismo. Elliot viene soprannominato il ragazzo strano e nessuno vuole uscire con lui. Elliot ora cambia idea su questi tipi popolari infatti nel suo manifesto inizia a definirli odiosi cretini. A Elliot non piacciono più perché trova ingiusto che non lo abbiano accettato nel loro gruppo. Quindi inizia a inquadrarli come dei nemici anche se aspira ancora a voler essere uno di loro. Eh già, un lato di Elliot è comunque disposto a fare qualsiasi cosa pur di riuscire con questi coetanei al top. Dunque instaura nei loro confronti un rapporto di amore-odio. Mentre frequenta le scuole medie a 11 anni il ragazzino vive anche un evento per lui fin troppo significativo che infatti lo traumatizzerà per anni. Un giorno Elliot sta giocando con alcuni ragazzini solo maschi perché alle ragazze non gli piacciono e nello specifico si stanno facendo il solletico a vicenda. A un certo punto tutti si concentrano sul fare il solletico a Elliot e siccome lui lo soffre tantissimo inizia a muoversi nel tentativo di divincolarsi e urta per sbaglio una ragazzina. Lei che ha più o meno la stessa età di Elliot è molto infastidita da questo contatto inaspettato così gli dà una piccola spinta per fargli capire che deve allontanarsi. Questo è l'evento traumatizzante che ha vissuto Elliot. Mi dispiace dirlo ma io lo trovo alquanto ridicolo. Di certo qualche ragazzino avrà spinto anche me quando ero piccola e sarà successo pure a voi. È una cosa che spesso può accadere. Tuttavia mentre leggevo il suo manifesto mi sono resa conto che tutto l'odio e il risentimento nutrito verso le ragazze da parte di Elliot scaturisce proprio da questo episodio. Certo è un sentimento negativo che si alimenta negli anni lentamente ma lui sottolinea che è stato questo l'evento scatenante del suo disprezzo per le donne. Elliot è furioso perché quella ragazzina ha reagito così. Non riesce a credere che abbia avuto l'audacia di respingerlo. Vi leggo quindi un'altra citazione riguardo a questa esperienza tratta dal manifesto di Elliot. Il trattamento crudele delle donne è dieci volte peggiore di quello degli uomini. Mi faceva sentire come un topolino insignificante e indegno così piccolo e vulnerabile. Non potevo credere che questa ragazza fosse così orribile con me e pensavo che lo avesse fatto perché mi vedeva come un perdente. Da questo momento Elliot considera tutte le ragazze malvagie e crudeli. Ci sono altri due eventi significativi in base alle percezioni di Elliot che risalgono al periodo delle medie. Il primo avviene quando suo padre annuncia che lui e la sua compagna avranno un bambino che chiameranno Jez. All'inizio il ragazzino è davvero entusiasta al pensiero di essere il suo fratello maggiore visto che finora lo è stato solo per la sorellina, una femmina, quindi non è la stessa cosa. L'altro evento significativo si verifica quando suo padre smette di pagare il mantenimento ai figli. Dunque la mamma di Elliot è costretta a trasferirsi in un piccolo appartamento. Questo a Elliot non piace affatto visto che adora la ricchezza. Siccome, se ricordate, Elliot in alcuni periodi vive con la mamma non sopporta di arrangiarsi in un appartamento quando sta da lei. Questa condizione gli suscita un tale imbarazzo che si rifiuta di invitare gli amici a casa. Credo che proprio questo cambiamento l'abbia portato a diventare un ragazzino sempre più solitario. Qualche amico ce l'aveva ancora e andavano spesso a casa sua ma da ora in poi Elliot smette di invitarli. Così gli amici iniziano ad allontanarsi da lui uno per uno ed Elliot non compie alcuno sforzo per recuperare i rapporti o per trovare nuovi amici. È molto passivo. A questo punto la vita di Elliot consiste nell'andare a scuola odiando ogni singolo minuto di queste ore visto che non ha amici e non interagisce con i coetanei. Poi quando torna a casa l'unica cosa che fa è giocare ai videogiochi. Gli unici momenti in cui non si intrattiene con i videogiochi è quando partecipa alla premiere di tutti e tre i film di Star Wars. Questo perché sua madre è amica di George Lucas. A Elliot piace andare alle premiere perché lo fanno sentire importante. Quando arriva il momento di frequentare il liceo Elliot è assolutamente pietrificato dal pensiero di dover gestire la crudeltà delle ragazze che continuano a spaventarlo molto. Quindi prega i suoi genitori di scriverlo a una prestigiosa scuola privata maschile e loro consentono. Tuttavia anche qui Elliot non si trova bene. Detesta l'ambiente in cui è immerso. Infatti già durante la prima settimana a scuola gli altri ragazzi all'ora di pranzo lanciano il loro cibo addosso a lui. Elliot diventa fin da subito vittima di bullismo. In questo periodo Elliot viene esposto a un contatto visivo che ha a che fare con i rapporti intimi. Altro argomento significativo del suo manifesto. Elliot ha 13 anni e si trova da solo in un internet caffè dove nota un ragazzo più grande che guarda dei contenuti hot su uno dei computer della sala. Anche questo evento lo traumatizza. Infatti Elliot nel suo manifesto scrive «La scoperta del sesso è solo l'inizio della mia terribile caduta». Mentre frequenta il liceo sempre più ragazzi iniziano a parlare dei loro rapporti intimi, cosa però già successa in prima media dove alcuni compagni di classe se ne vantavano. Con il tempo Elliot si ritrova coinvolto sempre più spesso in conversazioni come questa e inizia a covare una grande invidia. Tutti i ragazzi che conosce hanno già iniziato a sperimentare dei rapporti intimi, ma lui no. Nel suo manifesto scrive «Le parole non possono descrivere quanto odio e invidia sentivo per quei ragazzi. L'odio non avrebbe fatto altro che peggiorare man mano che soffrivo per la mia fame sessuale». Elliot si ritira dunque sempre di più in se stesso concedendosi solo al mondo di videogiochi. Il bullismo di cui è vittima sta peggiorando, quindi prega i suoi genitori di mandarlo in un'altra scuola. Loro accettano di aiutarlo e lo iscrivono al secondo liceo in una scuola pubblica. Elliot però, quando si accorge dell'ambiente in cui si trova, è inorredito per diverse ragioni. La scuola pubblica è più grande di quella privata che ha frequentato per il primo anno di liceo, quindi ci sono tantissimi studenti. Ragazze comprese! Inoltre Elliot pensa che la scuola pubblica non sia alla sua altezza. Lui è di gran lunga superiore, infatti resiste in questo posto solo per due settimane. Anche qui è vittima di bullismo, così i suoi genitori accettano di mandarlo in una scuola per la continuazione, cioè progettata per gli studenti che hanno particolari difficoltà con una gestione più flessibile delle lezioni. Qui Elliot frequenta soltanto tre ore di lezioni al giorno ed è felicissimo perché può giocare ai videogiochi molto più tempo. In questo modo però si isola ancora di più, non tenta di socializzare con i nuovi compagni, anche se continua in questo istituto tutto il suo percorso al liceo. Tra i 16 e 18 anni Elliot soffre di solitudine e depressione. Lui vorrebbe coltivare una vita sociale, almeno questo sostiene nel suo manifesto, ma non sa come ottenerla, anche perché ambisce ancora a uscire con i ragazzi più popolari. Intanto non solo Elliot passa molto tempo davanti al computer per giocare ai videogame, ma balzica parecchi online e a questo punto le sue pericolose idee iniziano a prendere forma. Va in rete per fare delle ricerche sui rapporti intimi, sugli adolescenti che li consumano e accumula tanta rabbia al pensiero che i suoi coetanei abbiano una vita intima attiva, mentre lui no. Questo lo porta a rimuginare con estremo risentimento, anzi odio verso coloro che considera più fortunati da questa prospettiva. Elliot è convinto di essere condannato a vivere una vita da celibe e secondo lui è un'enorme ingiustizia. Senti che gli spetta di diritto avere dei rapporti intimi, sostiene di meritarlo più dei ragazzi che li consumano davvero e crede che le ragazze dovrebbero letteralmente lanciarsi su di lui. Dal canto suo però Elliot non prova neanche ad approcciare una ragazza, non fa alcuno sforzo, non parla con nessuna di loro. È convinto che se si veste bene, se mette in ordine i capelli e se guida una bella macchina, le ragazze dovrebbero correre da lui. Ora passa il suo tempo anche a passeggiare per il quartiere, osserva giovani coppie che si tengono per mano e si baciano e questo lo riempie di rabbia. A questo punto si rifugia in una fantasia davvero contorta e pericolosa. Si immagina come un potente dittatore che ha la capacità di rendere illegale il sesso. Visto che lui non ha rapporti intimi allora non li deve avere nessuno. Elliot finisce la scuola superiore e si iscrive a un community college vicino a casa di suo padre nella zona di Woodland Hills a Los Angeles. Anche in questo college Elliot non colleziona una buona esperienza quindi abbandona gli studi e rimane a vivere a casa di Peter senza fare nulla. Sua madre però gli dice che non può andare avanti così deve trovarsi qualcosa da fare quindi o cambia college o si cerca un lavoro. Elliot ormai ha sfiducia anche nell'università quindi propende per la seconda opzione. È convinto di essere una persona importante anche perché proviene da una famiglia ricca quindi si propone per un lavoro d'ufficio ma con sgomento si rende conto che deve svolgere anche dei compiti umili come pulire i bagni ed è assolutamente inorridito da ciò. Scrive nel suo manifesto che non avrebbe mai potuto degradarsi fino a quel punto quindi lascia il lavoro. Ma i suoi genitori non si arrendono. Elliot non può restare a casa a fungere da soprammobile diciamo così. Gli dicono che pagheranno quanto dovuto affinché frequenti un college a Santa Barbara e lo portano a Aila Vista per permettergli di visitarlo. Aila Vista è una piccola comunità di Santa Barbara, una città universitaria infatti la maggior parte delle persone che vive lì frequenta uno dei due college vicini l'università della California Santa Barbara o il Santa Barbara City College dove Elliot si iscriverà. Elliot è in macchina con i suoi genitori, suo padre sta guidando per le strade di Aila Vista e questo giro nella zona convince il ragazzo. La città è davvero composta solo da studenti universitari quindi lui potrebbe cogliere finalmente l'opportunità di diventare uno dei ragazzi popolari del college. Elliot si trasferisce a Santa Barbara e tenta di avere la vita che ha sempre sognato ma anche qui le cose non vanno secondo i suoi piani e l'unica persona che può incolpare è se stesso. Mi spiego meglio. Elliot quando conosce i suoi coinquilini storce il naso immediatamente perché pensa che siano inferiori a lui. Da questo momento il ragazzo cambierà coinquilini continuamente nella speranza di condividere l'appartamento con qualcuno di popolare. Cool! Come al solito però non fa nulla per socializzare, per coltivare delle amicizie e si aspetta che tutti vadano da lui e di corsa. Si posiziona infatti in diverse zone del campus ma gli altri studenti universitari non gli si avvicinano come previsto quindi Elliot si arrabbia. Pensa guardandosi attorno. Nessuna di queste persone si avvicina e nessuno vuole essere mio amico. Come osano! Per non parlare dell'approccio di Elliot per trovare una ragazza che per quanto mi riguarda perdonatemi ma è il quanto comico. Si mette dei bei vestiti, si siede in un bar e rimane lì per ore in attesa che siano le ragazze a notarlo e ad andare da lui. Il fatto che non succeda lo rende davvero frustrato e anche in questo caso pensa come osano le ragazze non avvicinarsi a me visto che sono così bello. C'è poi un'altra questione che lo demoralizza enormemente ovvero la sua verginità. A tal proposito scrive nel suo manifesto. Come fanno tutte queste persone brutte ad avere rapporti intimi? Perché io no? L'esperienza al college per Elliot procede più o meno in questo modo per parecchi mesi trascinandosi dietro tutta la rabbia già accumulata alle scuole medie e al liceo. Elliot è in collera con tutti coloro che gli stanno intorno, che si divertono e che hanno rapporti intimi. Il suo ventesimo compleanno si sta avvicinando e per Elliot questo è un enorme problema perché non può sopportare il pensiero di essere ancora vergine a quell'età. Il tempo stringe, mancano solo 12 giorni. Quindi organizza un piano e prova con tutto se stesso a perdere la verginità. Tenete presente che questa full immersion è un passo enorme per Elliot, il quale di solito non fa assolutamente nulla per ottenere ciò che vuole. Per 12 giorni di fila va a sedersi fuori da Domino Spizza e spera che una ragazza si avvicini a lui e si presenti. Voi direte che tutto questo lo ha già fatto, ma c'è una novità perché nell'arco di questi 12 giorni Elliot per la prima volta prova a parlare con una ragazza. Sì, avete capito bene, la prima volta. Elliot si lamenta dicendo che le ragazze continuano a rifiutarlo, ma non ha mai provato a parlare a nessuna di loro, in nessun modo. Ha il coraggio di farlo solo ora, a 19 anni, quasi 20. Sia chiaro, non lo considero un problema, magari un ragazzo è timido ed è per questo che non riesce a fare il primo passo. Ma Elliot pretende di essere notato e avvicinato e descrive il genere femminile come mostruoso e crudele. L'unica donna con cui ha parlato, oltre a quella sua amica conosciuta quando aveva sei anni, è sua madre. In ogni caso, torniamo al primo tentativo di approccio di Elliot. Lui sta camminando, a un certo punto si trova davanti un ponte e nota una ragazza che lo sta attraversando nella direzione opposta alla sua. Elliot continua a camminare verso la ragazza e, quando i due si incrociano, lui dice semplicemente, ciao, questo è il suo più grande sforzo. La ragazza lo guarda stranita e continua a camminare senza rispondergli nulla, secondo voi? Come si sentirà Elliot? Come la vittima di un enorme affronto, indignato e arrabbiato. Lui non parlava mai con le ragazze. Ha dovuto farsi forza per salutarne una e lei lo ha ignorato. Ovviamente pensa, come osa non ricambiare il mio saluto? Se immagino la scena che lui ha descritto minuziosamente nel suo manifesto, non posso che considerare il comportamento di Elliot come strano, inquietante e sospetto. Non ispira di certo fiducia alle ragazze. Del resto, il suo problema, lo sottolineo, non è l'aspetto. Anzi, a mio parere Elliot non è un brutto ragazzo, è il suo modo di porsi e di pensare chi alza delle barriere. Ora, a me dispiace profondamente che lui non si sia mai confidato con un terapista o con i suoi genitori su questa questione cruciale. Se solo avesse spiegato come si comportava con le ragazze, probabilmente un adulto avrebbe saputo indirizzarlo sulla giusta strada, anche nel conoscere le donne. Guardando il comportamento che attuava da un'altra prospettiva, forse si sarebbe reso conto dei suoi sbagli. Ma purtroppo Elliot non parla poco solo con le ragazze, bensì anche con i suoi genitori o psicologi. Tutti questi pensieri non li esterna mai, tranne nel suo manifesto, ma non li condivide dialogando con qualcuno. Rimane lì da solo a rimuginare e le sue convinzioni quindi si rafforzano, facendo montare in lui altra rabbia. Dopo questo saluto mancato, Elliot si sente così umiliato che quando trova un bagno nel campus del college ci si chiude dentro per un'ora e la trascorre a piangere. I fatedici dodici giorni passano ed Elliot compie vent'anni. Oltre a non aver perso la sua verginità ormai, sa bene di condurre una vita solitaria. Ogni volta che vede qualcuno divertirsi o delle giovani coppie innamorate, si infuria tantissimo. Così Elliot decide che avrebbe iniziato a scagliarsi contro le persone per vendicarsi. Tutte le mattine Elliot va da Starbucks e ordina il solito latte alla vaniglia, ma un giorno, mentre se lo sta gustando, nota una giovane coppia che fa la fine al banco. I due sembrano molto innamorati, si tengono per mano, si baciano. Elliot appena li vede si arrabbia moltissimo e pensa, bene farò qualcosa a riguardo. Decide di seguire la coppia fuori dalla caffetteria. I fidanzati stanno per salire in macchina, allora lui si avvicina e gli versa addosso il suo latte e poi scappa via il più velocemente possibile. Quando è ormai abbastanza lontano, si rende conto di provare una travolgente euforia. Sente di essersi vendicato finalmente. Una situazione simile si ripete per un paio di volte. Un giorno Elliot sta andando in giro con la sua macchina e indossa una maglietta molto carina. Si sente a suo agio, pensa di avere un bell'aspetto e nota due ragazze sedute alla fermata dell'autobus. Decide di accostare, abbassa il finestrino, le guarda e sorride convinto di essere attraente. Ora però vi chiedo di mettervi nei panni delle due ragazze. Sono sedute alla fermata dell'autobus per conto proprio e vedono questo strano tipo che si ferma, le guarda sorridendo ma non dice neanche un ciao. Non pronuncia una sola parola ma continua a osservarle con quell'espressione fissa in volto. Le due ragazze non gli sorridono a loro volta, si limitano a guardarlo per capirci qualcosa di più. Ma Elliot ovviamente è furioso. Pensa come osano queste due non ricambiarmi il sorriso. Quindi va da Starbucks, compra il suo latte alla vaniglia, torna alla fermata dell'autobus e glielo versa addosso. Elliot si sente davvero triste ma c'è una cosa che gli tira sul morale. Presto sarebbe andato alla premiere di un altro film ovvero Hunger Games. All'evento passa una bellissima serata ma di certo non ha perso la verginità, il suo chiodo fisso. Elliot inizia a credere che l'unico modo per avere un rapporto intimo sia diventare davvero ricco e potente. Deve mettere le mani sui soldi della sua famiglia che è piuttosto benestante ma ha bisogno di scugitare un piano. Ah ecco un'altra idea, avrebbe vinto alla lotteria. Dovete sapere che quando Elliot era più giovane suo padre gli aveva regalato il libro The Secret. Il testo spiega con semplicità qual è la legge che governa le vite di ciascuno di noi e offre le basi per scoprire come conquistare senza sforzo una vita ricca di gioia. Elliot quindi inizia a meditare per ore ogni singolo giorno immaginando di vincere alla lotteria e credendo che questo metodo possa davvero funzionare. Reputo sia giusto nella vita pensare sempre in positivo ma ci sono alcuni fattori che non si possono controllare e vincere alla lotteria è uno di quelli. Elliot però è ormai convinto che vincere alla lotteria sia il suo destino, un modo concreto per diventare ricco e potente e di conseguenza conquistare qualsiasi donna. Tuttavia Elliot, indovinate un po', gioca alla lotteria ma non vince e nonostante ciò continua a crederci profondamente, continua a meditare, poi riprova a giocare alla lotteria. Spende dai 50 ai 100 dollari ogni volta che inizia a giocare. Inoltre si reca in stati diversi per cercare di aumentare le sue probabilità di vincita. Elliot però non vince mai neanche un dollaro e ogni volta che perde si arrabbia così tanto da pensare che l'intero mondo ce l'abbia con lui. In ogni caso Elliot ancora non si arrende e davanti a un jackpot dal valore di circa 650 milioni di dollari pensa che sia finalmente arrivato il suo momento. Ecco per chi aveva perso tutte le altre volte. Lui è destinato a vincere questi 650 milioni di dollari. Come immaginerete anche in questo caso Elliot non vince e spende circa 700 dollari in biglietti della lotteria. Allora io rimango alquanto basita da questo episodio perché Elliot non si rende davvero conto di quanti privilegi abbia visto che può spendere 700 dollari per quello che io considero un capriccio. Poi non so ditemi voi. Arriviamo al 2013 quando Elliot entra nella community in sale online e per la prima volta sente di far parte di un gruppo da cui può essere compreso. Quello che ha imboccato è però un cammino pericoloso tanto che inizia a interessarsi alle armi da fuoco e a ricarsi ai poligoni di tiro. Gli piace la sensazione di impugnare la pistola. Afferma che lo fa sentire potente. Entro la fine del 2013 Elliot acquista tre pistole che custodisce nella sua stanza nel campus del college. Elliot inizia a partorire pensieri ancora più inquietanti ai malvagi. Valuta seriamente di fare del male, di infliggere sofferenza a coloro che lui considera suoi nemici. Comincia a fantasticare di commettere questi atti di violenza che lui racchiude in quello che definisce il giorno della punizione. Elliot durante questa giornata avvocata al castigo immagina di compiere un crimine mosso dal desiderio di vendetta. Vuole andare per le strade di a la vista e causare quanto più dolore possibile. Alcuni sostengono che Elliot avesse iniziato a elaborare questo giorno della punizione non appena iniziato il college. Anzi, quando era arrivato per la prima volta, hai la vista. Ciò vorrebbe dire che ha pianificato lentamente questa truce giornata nel corso dei tre anni in cui ha frequentato il college. È l'estate del 2013 quando Elliot decide di fare un ultimo tentativo per vivere la vita che ha sempre desiderato, ovvero essere un ragazzo alla moda, in grado di attrarre qualsiasi donna lui desideri. Inizia quindi ad allenarsi, acquista dei vestiti nuovi e si fa comprare da sua madre una macchina nuova. Una sera beve qualche drink nella speranza di diventare un po' più sicuro di sé, poi inizia a camminare lungo le strade dove si stanno svolgendo delle feste in casa. Così entra in un'abitazione e si mette in un angolo aspettando che la gente vada a parlargli. Come al solito nessuno gli si avvicina e come al solito lui si arrabbia e scappa, precipitandosi fuori dalla casa dove ha luogo il party. Quando esce però scorge alcune persone raggruppate sul tetto dalla superficie piana dove è allestita una piccola area a salotto all'aperto. Elliot nota che questi invitati si stanno divertendo e decide di salire sul tetto con loro. Propone addirittura ai ragazzi e alle ragazze presenti di andare via con lui e divertirsi altrove, ma loro non lo calcolano molto. Anzi, non vogliono nemmeno che Elliot rimanga lì con loro, non lo conoscono e sembra un tipo inquietante. Allora Elliot si infuria ed ha di matto e inizia a spingere le ragazze cercando di farle cadere dal tetto a circa tre metri da terra. Però, siccome è ubriaco e sbandato, il suo stato gli impedisce di raggiungere il suo macabro obiettivo. Sono gli amici delle ragazze che intervengono e finiscono per spingere Elliot, il quale cade e si rompe una caviglia. Riesce a rimettersi in piedi, prova a camminare ma inciampa. Eppure si rialza e incrocia un altro gruppo di ragazzi che si sta divertendo. Elliot, imperterrito nel suo delirio, si infiltra nel gruppo e prova ad attaccare Briga. Tenta di prendere a pugno un ragazzo, ma alla fine è proprio Elliot quello che si ritrova con la faccia piena dei lividi, perché gli amici del ragazzo hanno reagito picchiandolo. Le fonti che ho consultato non rivelano cosa si è successo subito dopo questo passaggio. Di sicuro Elliot viene poi portato in ospedale. A causa della caviglia rotta deve subire un intervento chirurgico e rimane in ospedale per alcune settimane, anche se gli ci vogliono dei mesi per riprendersi dall'intervento. Questo vuol dire che Elliot sta passando ancora più tempo da solo. Arriviamo al capodanno del 2014. Elliot è ormai guarito, si sveglia e pensa che sia finalmente giunto il momento di portare a termine il suo spietato giorno della punizione. Scrive nel suo manifesto questo è stato l'anno in cui tutto si concluderà. Nel prossimo anno finalmente avrò la mia conclusione, la mia vendetta, la mia punizione. Sono stato respinto, insultato, umiliato, scacciato, vittima di bullismo, affamato, tornato e ridicolizzato per troppo tempo. L'umanità è una specie crudele e brutale e l'unica cosa che potevo fare per pareggiare i conti era restituire quella crudeltà mille volte. Il rifiuto delle donne nei miei confronti è una dichiarazione di guerra e se è la guerra che vogliono allora la guerra avranno. È giunto il momento di pianificare esattamente cosa farò il giorno della punizione. Sarò un dio che castigherà le donne e tutta l'umanità per la mia depravazione. Elliot decide di portare a termine il giorno della punizione entro pochi mesi quindi da capodanno inizia a pubblicare molti video su youtube. Vuole condividere le sue opinioni con il resto del mondo. Spesso va in giro per Hai la vista da solo e mentre guida effettua delle registrazioni in cui esprime le sue opinioni sulle donne riguardo al suo odio verso la società e anche verso gli uomini. Elliot sostiene di essere un ragazzo magnifico. Alla fine di questi video che ho guardato interamente e sono alquanto ripetitivi Elliot si identifica quindi come una vittima. Si reputa bellissimo, anzi fantastico, quindi afferma che una ragazza gli è dovuta. Elliot trascorre i mesi seguenti a scrivere il suo manifesto o meglio la sua autobiografia. Io come ho già detto l'ho letto tutto è molto lungo oltre che ripetitivo esattamente come i suoi video su youtube. Continua a esprimere gli stessi concetti su quanto sia ingiusta la sua vita. Sono onesta quando ho finito di leggerlo mi sono chiesta che cosa sia successo a Elliot di così brutto. Ok? Ha indubbiamente vissuto dei momenti difficili come il bullismo subito a scuola ma la mia domanda è chi non ha mai attraversato dei brutti periodi anche lunghi? Perché lui ha covato dentro di sé tutto questo odio, questa rabbia sprezzante e carica di risentimento verso le donne e verso la società? Un tema ricorrente nel suo manifesto è quanto siano crudeli le donne ma alla luce di ciò che vi ho raccontato Elliot fa riferimento soltanto a due brevissimi eventi per assegnare loro questa accezione. Il primo risale al tempo delle scuole medie quando durante una lotta di solletico con i compagni è urtato contro una ragazza che lo ha spinto a sua volta. Il secondo risale al periodo del college quando ha attraversato quel ponte e ha salutato una ragazza sconosciuta che non ha ricambiato il saluto ignorandolo. Questo è tutto. Dunque terminata la lettura del manifesto sono rimasta alquanto basita. Ripeto a mio avviso non è successo nulla di così grave o sconvolgente, Elliot non ha subito bullismo da parte delle ragazze. Al limite si può dire che sia stato ignorato da loro. Dunque la domanda cosa gli è successo di terribile in passato? La risposta per me è ovvia. Non gli è successo proprio niente. Non è stato umiliato da nessuna ragazza? Nessuna si è mai preso gioco di lui? Alla fine del manifesto Elliot scrive nel dettaglio il suo piano cioè quali azioni vuole compiere per portare a termine il giorno della punizione. Elliot divide questo castigo in due fasi, il giorno prima e poi il giorno stesso della punizione. Nello specifico nel giorno prima di quello dedicato alla punizione Elliot ha pianificato di uccidere suo fratello Jez e la compagna di suo padre. Elliot è arrivato a disprezzare suo fratello minore, è convinto che crescendo stia diventando un ragazzo più cool, più alla moda di lui. Non sopporta il pensiero che il fratellino viva una bella vita, quella vita che Elliot ha rincorso per oltre vent'anni ma che non è mai riuscito a conquistare. Per quanto riguarda la compagna del padre, lei non gli è mai piaciuta e questa secondo lui è una motivazione più che sufficiente per ucciderla. Decide di non ammazzare suo padre solo perché teme di non riuscirci quindi preferisce non provarci nemmeno. Il suo piano è quello di aspettare che Peter sia fuori città, cosa che capita spesso per motivi di lavoro. Quindi Elliot progetta di tornare a casa del padre dopo aver ucciso il suo figlio più piccolo e la sua compagna. Ma è in programma anche di andare nel suo appartamento o nel campus universitario per uccidere i suoi due coinquilini. Così avrebbe avuto a disposizione l'intero appartamento per organizzare le sue uccisioni. Infatti in qualche modo intende attirare le vittime nel suo appartamento usando l'inganno. Vuole poi torturare, strappando loro la pelle e versando loro addosso dell'acqua bollente mentre sono ancora vive. Infine vuole tagliarle la gola e decapitarle per poi infilare tutte le teste mozzate in un grande sacco. Questa è la fase 1 del piano di Elliot. Il giorno successivo invece sarebbe iniziata la seconda fase, cioè nel giorno della punizione vero e proprio. Il piano di Elliot è di recarsi in quella che descrive come la confraternita più alla moda della Università della California Santa Barbara. Si sarebbe diretto lì intorno alle 21 intrufolandosi poco prima dell'inizio di una festa e avrebbe massacrato ogni singola persona presente. Dopodiché pianifica di bruciare l'intera casa, poi di guidare per le strade di Aila Vista investendo quante più persone possibili fino ad arrivare allo scontro finale. A quel punto vuole guidare sulla strada principale, scendere dalla macchina, prendere il sacco con le teste decapitate riposte all'interno e svuotarlo in mezzo alla via per scioccare i passanti. Elliot nel suo manifesto scrive tutti mi temeranno perché sono un dio potente. Infine estrarrà le sue armi e aprirà il fuoco sulle persone radunate intorno a lui per ucciderle tutte. Scrive nel suo manifesto che appena la polizia si fosse avvicinata a lui avrebbe rivolto l'arma verso se stesso per togliersi la vita. Arriviamo all'aprile del 2014, si avvicina il fine settimana in cui Elliot vuole colpire, ma si becca un raffreddore e decide di rimandare il suo piano di qualche settimana. La data in cui darà inizio al giorno della punizione sarà sabato 24 maggio. In quelle poche settimane che lo separano dal fattidico evento, la polizia però si presenta nel suo appartamento. Elliot apre la porta agli agenti pensando che siano venuti a conoscenza del suo piano, è convinto che perquisiranno l'alloggio, troveranno tutte le armi e il manifesto e lo arresteranno. Elliot si rammarica al pensiero che non potrà portare a termine il suo piano con torto e folle. In effetti qualcuno aveva visto i suoi video deliranti su youtube, si è preoccupato e lo ha denunciato. La polizia arriva all'appartamento di Elliot per fare un controllo, sì ma soprattutto temendo che il ragazzo possa togliersi la vita. Gli agenti non pensano che Elliot possa davvero essere pericoloso per gli altri, bensì sono convinti che rappresenti una minaccia per se stesso. In ogni caso, e non so in che modo, Elliot riesce a tranquillizzare la polizia, dice che va tutto bene e gli agenti se ne vanno senza perquisire l'appartamento. Se fossero stati più scrupolosi di certo avrebbero trovato le sue armi, il suo manifesto e il piano criminale di Elliot sarebbe stato sventato. Arriviamo così a venerdì 23 maggio del 2014. Elliot vorrebbe dare il via alla prima fase del piano, ma siccome suo padre è a casa quel fine settimana, deve cambiare i programmi, abbandonando l'idea di uccidere suo fratello minore e la compagna di Peter. Tuttavia purtroppo riesce a portare a termine la fase successiva del piano, uccidendo i suoi due coinquilini di nome Chen Yuan Hong, George Chen e un amico che i due stanno ospitando di nome Weihan Wang. Nella sua furia omicida Elliot pugnala tutti e tre i ragazzi a morte e li detestava anche per la loro provenienza asiatica. Le posizioni delle vittime suggeriscono che sono state uccise separatamente, a mano a mano che entravano nell'appartamento. Poi alle 21 e 17 Elliot carica il suo ultimo video su YouTube. Il ragazzo inizia il video dicendo sono Elliot Roger e questo è il mio ultimo video. Domani è il giorno del castigo, della mia vendetta su tutti voi. In questo video Elliot spiega che negli anni ha vissuto una vita di solitudine e rifiuto, in colpa alle donne per aver scelto uomini odiosi e di aver sempre rifiutato lui, che si autodefinisce il supremo gentleman. Dice di avere 22 anni e di non aver mai baciato una ragazza, spiega che è stato per due anni a mezzo al college e di essere ancora vergine. Continua dicendo che il college è il momento in cui tutti esplorano la propria sessualità e si divertono, ma per lui è stato solo un periodo di solitudine. Spiega che nel giorno del castigo entrerà nelle case e farà una carneficina, ucciderà tutte le ragazze che l'hanno respinto e trattato come un uomo inferiore. Conclude dicendo che proverà un gran piacere nel massacrare tutte queste persone, per dimostrare finalmente che lui è superiore a tutti. Un minuto dopo aver pubblicato questo contenuto, alle 21 e 18, invia il suo manifesto a 34 persone, compresi i suoi genitori, altri familiari, alcuni insegnanti e qualche vecchio amico. Quando l'agente inizia a leggere di cosa si tratta, la polizia viene contattata immediatamente. Suo padre e sua madre escono immediatamente dalle loro rispettive abitazioni e si precipitano in quella di Elliot, ma purtroppo è ormai tardi. Inizialmente Elliot avrebbe dovuto portare a termine il suo piano, distribuendo le azioni programmate in due giorni, il venerdì e il sabato, ma sembra che abbia cambiato idea. Decide di dare concretezza a tutti i suoi terribili propositi quel venerdì. Quindi, meno di dieci minuti dopo che Elliot ha inviato via email il manifesto ai 34 destinatari selezionati, è già all'esterno della confraternita, ma la porta è chiusa. Così inizia a bussare, urla in preca, mentre gli studenti all'interno della casa sono assolutamente terrorizzati dalla sua presenza. Dato che nessuno apre la porta, Elliot lascia perdere, ma quando si gira nota tre ragazze che camminano per strada. Allora tira fuori la pistola e spara contro di loro. Due delle tre vittime, Catherine Cooper e Veronica Wise, perdono la vita. La terza ragazza, di nome Bianca, viene colpita per cinque volte, ma fortunatamente riesce a sopravvivere all'attacco. Elliot, dopo la sparatoria, sale in macchina e vaga per le strade di Aila Vista. A un certo punto scende dall'auto ed entra in un negozio di alimentari per proseguire con la strage. C'è anche un filmato di sorveglianza che mostra quanto le persone presenti siano nel panico e cerchino riparo. All'interno di questo negozio, un giovane ventenne di nome Christopher Michaels Martinez perde la vita a causa delle ferite da arma da fuoco riportate. Elliot poi esce dal negozio e riprende a guidare per le strade di Aila Vista, sparando a caso alle persone per strada. La polizia però lo raggiunge e inizia a fare fuoco contro Elliot, che viene colpito al fianco. Infine, il ragazzo si schianta contro alcune macchine li parcheggiate. La polizia scende dal proprio veicolo e corre verso la sua macchina per arrestarlo. Ma, quando gli agenti aprono la portiera, trovano Elliot senza vita. Si è auto-inflitto una ferita d'arma da fuoco alla testa. Le conseguenze di questo massacro sono orribili. Elliot è responsabile della morte di sei persone, oltre alla propria. E tutta la comunità è sotto shock. La polizia e i media esaminano i video caricati su YouTube da Elliot e il suo manifesto per dare una spiegazione a quest'atto folle. Solo ora si accendono le luci sulla community online degli incel ed è preoccupante, disturbante e disgustoso che gli utenti di questi forum inizino a lodare Elliot per le sue gesta sconsiderate. Loro rinominano, come anticipato, il re degli incel. Il giorno dopo la manifestazione della furia omicida di Elliot, si tiene una veglia a lume di candela e un rito funebre per celebrare le vittime, al quale partecipano più di 20.000 persone. I compagni di stanza di Elliot e il loro ospite, Cheng e Yuan Hong, George Chen e Wei Han Wang, erano migliori amici e avevano un futuro brillante davanti a loro. La mamma di Wei Han afferma di essere estremamente orgogliosa di suo figlio, era un talentuoso programmatore di computer. La mamma di George parla di quanto fosse gentile e generoso suo figlio, mentre Cheng, a cui Elliot ha inferto ben 94 coltellate, viene descritto come una delle persone più garbate e altruiste che le persone avessero mai incontrato. A Catherine Cooper, detta Katie, la ragazza cui Elliot ha sparato appena fuori dalla casa della confraternita, mancavano solo poche settimane per conseguire la laurea in storia dell'arte. Viene descritta come una giovane donna intelligente e indimenticabile. Veronica Weiss, la sua amica, viene ricordata dal suo padre come una ragazza fiera, forte e intelligente. Christopher Martinez, il ragazzo ucciso nel negozio, aveva programmato di diventare avvocato, aveva quindi una carriera promettente da costruire davanti a sé. Viene descritto da suo padre come un ragazzo davvero fantastico. Questo caso, lo avrete intuito, mi ha davvero sconcertata. Quando ho iniziato a fare le ricerche sapevo già di immergermi in una vicenda pesante, orribile. Credevo però che approfondendo il manifesto avrei trovato delle motivazioni che, per quanto ingiustificabili in ogni caso, piegassero perché Elliot si era comportato in quel modo. Pensavo che tra quelle pagine emergesse il racconto di traumi terribili, visto che avevano alimentato così tanto la rabbia, il risentimento e l'odio di Elliot verso il mondo. E invece, nulla di tutto ciò. Certo, Elliot non ha avuto la vita più facile del mondo, ha subito del bullismo, e questo non dovrebbe mai verificarsi a scuola o altrove. Insomma, ha vissuto dei periodi molto difficili, ma come può capitare a tutti noi, senza per questo renderci degli assassini fautori di pieni diabolici. I genitori di Elliot parlano in pubblico dopo la sparatoria, affermando che non si aspettavano minimamente qualcosa del genere. Stando a quanto risulta, a Elliot non è mai stato ufficialmente diagnosticato alcun problema di salute mentale. Non lo menziona nemmeno nel suo manifesto. Ha parlato però di depressione e ansia, e ha scritto di non aver mai confidato a nessuno questi problemi. So che Elliot ha visto diversi terapisti, che gli sono stati prescritti dei farmaci, ma non si riesce a risalire al disturbo che dovevano curare. Tuttavia, proprio Elliot ha affermato che questi medicinali non li assumeva. Io non essendo né un medico né una psicologa, non mi metterò qui a disquisire su quale problema di salute mentale avesse Elliot ci mancherebbe altro, ma secondo me qualcosa che non andava c'era eccome. In un documentario che ho visto su questo caso, uno psicologo afferma che, anche se Elliot avesse trovato una ragazza, anche se non avesse avuto problemi ad approcciare con le donne, l'epilogo di questo caso sarebbe stato lo stesso. Elliot aveva dentro di sé una nube tossica di odio, rabbia e risentimento che, nell'ipotesi di successo con il genere femminile, avrebbe comunque diretto verso qualcos'altro. Il caso di Elliot Roger ha suscitato un dibattito su vari temi, tra cui, appunto, la salute mentale, la misoginia, la facilità di accesso alle armi e la necessità di affrontare in tempo i problemi di isolamento sociale e alienazione. Voi, invece, che idea vi siete fatti? Io vi ho già spiegato più o meno quali sono le mie idee su questo caso, ho finito di parlare in questo video e ora sono curiosa di sapere la vostra opinione. Fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate di questo caso, se lo conoscevate immagino di sì perché è alquanto famoso, ma soprattutto se lo conoscevate così dettagliatamente. Avete per caso letto il manifesto? Perché, insomma, si trova online e si trova anche già tradotto in italiano. Quindi, fatemi sapere quello che volete qui sotto nei commenti, come al solito. Io, nel frattempo, vi mando un bacione. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti!